Sì, sì, sarà una partita come un'altra, sì, magari forse prima saluterò un po' di amici che ho di là, il mister, il mister dei portieri, perché è giusto così, perché sono stato bene tutto l'anno lì ed è comunque siamo rimasti in contatto, c'è rispetto e amicizia, però in campo sarà una partita come le altre. Sì, una vittoria sarebbe importantissima più che altro anche per il morale, perché come dicono i numeri abbiamo solo una vittoria all'attivo, quindi è un po' brutto stare in questa situazione. Speriamo, ma sappiamo che sarà forse la partita più difficile dell'anno, perché loro comunque sono in casa, soprattutto loro, sono un'ottima squadra tignosa, cattiva, non è facile fare il risultato lì, quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. Io personalmente sì, ma pure penso anche Corrado e tutto il resto della squadra, ma oltre al gol siamo arrabbiati anche per l'ennesima prestazione che però forse non ci ha dato quanto meritavamo, quindi dobbiamo essere ancora più cattivi, magari grazie anche a questa carica che ci viene da questa partita e provare a fare il risultato pieno stavolta. Beh, è una partita difficilissima secondo me, perché come ho già detto loro in casa sono un'ottima squadra che si difendono bene, è difficile fargli gol, poi sono cattivi su tutto, tignosi, quindi sarà anche difficile giocare lì. Noi andiamo lì con la consapevolezza che dobbiamo fare punti, perché in questo momento servono come a loro, ci servono punti, quindi dobbiamo fare forse la partita migliore dell'anno sotto tutti i punti di vista.